Appalti pubblici, le reti autostradali e le nuove opportunità per il sud-est. E' il tema del convegno promosso dalla CNA di Ragusa in programma per domani con anche un confronto tra ospiti d'eccezione. Argomenti importanti e tanto sentiti anche in provincia iblea che la CNA intende mettere sotto i riflettori delle realtà locali del mondo politico. Prevista la presenza per la prima volta in Sicilia da quando è stato eletto, nel dicembre scorso, Diotello Gregorini, neosegretario generale della CNA nazionale, che oggi è già presente con un convegno anche a Siracusa. Interverranno inoltre l'onorevole Napagana, assessore regionale al territorio e ambiente, e Marco Capozzi, responsabile ripartimento relazioni istituzionali della CNA nazionale. E' un intervento straordinario, afferma invece il presidente Santo Cono, che ci permetterà tra l'altro di illustrare lo stato di fatto che riguarda molto da vicino le questioni infrastrutturali del nostro territorio, il tutto alla presenza di ospiti prestigiosi. Un'occasione da non perdere per il sistema produttivo del nostro territorio, che avrà così l'opportunità di comprendere verso quale direzione ci stiamo muovendo. Sulla stessa lunghezza ad onda, anche il segretario Cacamo, confrontarci su tematiche rilevanti con rappresentanti così autorevoli, ci metterà nelle condizioni di dipanare la matassa di alcune problematiche che sono rimaste ancora irrisolte, rispetto a cui la nostra associazione di categoria intende contribuire a definire le soluzioni più adeguate. Sono stati invitati a partecipare le amministrazioni comunali, i parlamentari nazionali e regionali del territorio ebreo.